con il segretario regionale del sindacato uspp ciro a riccio affrontiamo il tema spinoso delle rems queste diciamo abitazioni alloggi preposti a diciamo detenuti a misure restrittive con qualche problema particolare diciamo così assistiti dalla salute al dipartimento di salute mentale quali le problematiche sollevate anche già nelle precedenti nostre interviste da diversi interlocutori le problematiche sono le stesse quando c'è stata la chiusura degli opg nel 2013 con la legge di soffressione degli opg sono state create queste rems ma queste rems non sono andate in funzione in modo regolare i detenuti che sono stati mandati fuori per la legge del superamento degli opg stanno gravitando tutti nelle articolazioni mentale qui in campania ce ne sono diverse secondigliano santa maria e altre ad avellino che sono ubicate sul sul territorio campano e c'è una enorme difficoltà di ricolocamento di questi soggetti che le liste d'attesa delle rems sono lunghe non si riesce a aggessire all'interno perché sono comunque detenuti problematici che vanno seguiti dal punto di vista psicologico sanitario quindi manca un programma terapeutico completo per questi tipi di soggetti che hanno bisogno non solo non di sicurezza come gli altri detenuti ma di più di un supporto proprio di tipo sanitario che purtroppo viene a mancare all'interno degli istituti le rems come dicevo ci sono lunghe liste d'attesa e questa comporta una serie di problemi per questi soggetti che poi la polizia penitenziaria deve deve comunque gestirli all'interno delle strutture penitenziarie ordinarie per quanto riguarda invece la formazione professionale che si deve nei riguardi di questi sì noi abbiamo tipicamente una formazione professore per quanto riguarda i detenuti dei vari circuiti penitenziari ordinarie per questi tipi di oggetti ci vorrebbe anche una formazione sanitaria che le ase dovrebbe investire non solo sugli operatori sanitari ma anche sulla polizia penitenziaria per dargli una formazione adeguata per gestire questi soggetti dal punto di vista anche psicologico dal punto di vista proprio sanitario manca questo tipo di formazione le ase dovrebbero investire non solo sul personale sanitario ma anche sul personale di polizia penitenziaria dall'ombra stiamo seguendo questo parallelismo delle attività in carcerarie da perugia il sindacato si muoverà per andare invece a roma a chiedere determinati garanzie anche qualche supporto in più a livello numerico di agenti la situazione invece a napoli è la stessa più o meno è uniforme sul territorio nazionale o seguito il caso capanne un caso serio in umbria perché capanne secondo me va attenzionato dal dipartimento e dallo stesso ministro della giustizia ma in campagna abbiamo il caso foggio reale i casi comunque santa maria che manca l'acqua ci sono tanti casi anche in campagna ma il discorso è nazionale speriamo che il nuovo ministro bonafi si fa carico tutte queste problematiche per risolvere questi questi annosi problemi che c'è la polizia penitenziaria grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti